Un movimento culturale composto da commercianti salernitani e da tecnici del settore per chiedere in maniera forte e decisa la modifica della legge 114 del 1998 che regola le dinamiche del commercio nazionale. Stabilire un provvedimento normativo in grado di regolare definitivamente l'applicazione dei saldi e delle offerte promozionali per le stagioni invernali ed estive e poi inquadrare in un'ottica di opportunità commerciale le aperture domenicali dei negozi. Sono alcuni degli obiettivi tracciati in serata dalla Confesorcenti Salerno nel corso di un meeting alla Camera di Commercio rivolto al mondo degli esercenti salernitani. Un'importante occasione di confronto che ha visto scendere in campo il presidente della Confesorcenti Salerno Angelo Marinari che ha dettato proposte e linee strategiche del settore rivolte ai numerosi esercenti aderenti all'associazione di categoria guidata a livello provinciale di Enrico Bottiglieri. Dalla Confesorcenti Salerno arriva la proposta di istituire un movimento culturale che sappia racchiudere le anime del commercio salernitano per far sentire a livello nazionale la necessità di un cambio di rotta del commercio con la modifica della legge 114 del 98. A guidare il movimento potrebbe essere Adolfo Gravagnolo, figura di spicco del commercio del capoluogo. E' cercato e voluto questo incontro, questo meeting, è un'apertura che dà l'associazione di categoria, in questo caso la Confesorcenti, a tutti i colleghi commercianti di Salerno. E' un modo, è un simposio per incontrarsi, per chiarire, per parlare delle problematiche, di iniziative e perché no cercare di cacciare delle progettualità per il proseguo delle nostre attività commerciali. Questo meeting serve anche per parlare delle leggi che regolamentano il commercio. Tra questi parleremo della legge Bersani, la 114 del 98, della legge regionale la 1 del 2000, che è quella che regolamenta saldi, promozioni e domenica di apertura. Un'occasione importante per discutere su una nostra questione dei saldi. C'è molta confusione, questa è colpa di questa legge regionale. Infatti vorremmo parlare in modo diretto con i politici affinché questa legge possa essere cambiata, che possa essere fatto un regolamento ritagliato sulla figura del commerciante. Ci sembra abbastanza aleatorio far partire i saldi 2 gennaio, non è un periodo ad alto per poter fare delle vendite stagionali, di fine stagione. Allo stesso momento ci sono delle problematiche molto forti dettate anche dalle vendite promozionali. Infatti non ci sembra giusto che possano essere fatte delle vendite promozionali anche nel giorno antecedente ai saldi. Vorremmo a questo punto creare una sinergia tra tutti i commercianti affinché la nostra voce si possa far sentire nei palazzi politici e questa legge possa essere modificata, ripeto, ritagliata sulla figura del commerciante.